Il bello e il cattivo tempo, siamo al Salone Margherita in compagnia di Alberto Tordis. Stasera inizia una nuova avventura. Ok, sì, stasera iniziamo la prima serata di Fulish Theater, quindi chiamiamola inaugurazione vera e propria. Il concetto di Fulish Theater è un progetto nuovo, prevede, praticamente rompiamo un po' i canoni o comunque quelli che sono gli schemi del teatro. Abbiamo montato un palco al centro della platea, quindi il palco scenico principale non è più quello canonico del teatro, ma diventa proprio il fulcro, il centro della platea. Le persone possono vedere dappertutto, qui ci troviamo dentro al Salone Margherita, quindi possono vedere in ogni parte del teatro lo spettacolo che avviene. Fulish Theater vuole essere qualcosa di diverso, di innovativo. Il progetto è ambizioso, ci stiamo investendo molto a livello di forze sia economiche che artistiche. Prevede delle parti con dei DJ set, artisti di strada, abbiamo delle band musicali, abbiamo anche dei cantanti di grande, sicuramente rispetto e di bravura. Questi sono un po' gli aspetti salienti. Invitiamo il pubblico a presentarsi sempre con, non diciamo con un dress code particolare, ma quello che più ti fa sentire bene. Quindi abbiamo messo a disposizione anche delle stesse persone una costumeria all'ingresso, le persone sono invitate a potersi vestire come meglio credono. Le nostre costumiste possono consigliare qual è il dress code migliore per la serata. Ci sarà tutto accompagnato da buon cibo, da un beverage di ottima qualità, che è il Club Derriere, che è il nostro partnership all'interno della serata. Quindi diciamo che è uno spettacolo fatto dal pubblico, no? O comunque il pubblico diventa parte integrante di questo spettacolo? Il pubblico sì, diventa parte integrante dello spettacolo, ma in maniera naturale. Il senso è quello di entrare in un posto dove noi vogliamo che le persone stesse si possano calare in una dimensione che è diversa da quella che viviamo normalmente all'esterno. Quindi liberarsi degli abiti, se vogliamo, quelli da lavoro, classici e calarsi in una dimensione diversa. Diventiamo attori all'interno dello spazio non perché portiamo una performance, ma perché aiutiamo gli artisti a livello energetico in quello che sta succedendo. E quindi la location è il Salone Margherita, migliore non si poteva trovare. Il progetto è valido, io mi sono lasciato coinvolgere. Il bello e il cattivo tempo vi aspetta tutti i martedì qui al Salone Margherita con il Fulish Theater. Assolutamente sì, vi aspettiamo, ogni martedì siamo qua. Grazie. 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 Grazie.